non essere il migliore, sii unico credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più per liberare la tua mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale ma è capitato anche a te di dire a volte delle frasi della serie ma perché capitano sempre tutte quante a me? ma è possibile che ogni volta va a finire sempre nello stesso modo in cui io resto in... pip... incastrato, ecco mettiamola così rispetto a tutti quanti gli altri oppure ecco è la solita storia io faccio sempre di tutto faccio sempre il massimo per gli altri ma poi nessuno fa qualcosa per me ecco insomma quello che ti sto per raccontare all'interno di questo episodio del podcast ha a che fare con un argomento dell'analisi transazionale se è la prima volta che passi da queste parti o non hai mai sentito parlare di analisi transazionale devi sapere che è un approccio psicoterapeutico ed è il mio approccio psicoterapeutico con il quale svolgo tutti i percorsi di psicologia e crescita personale con le persone a studio a Roma oppure online che mi contattano per iniziare appunto a cambiare qualcosa nella propria vita perché qual è il problema? che il copione di vita così come vedi anche proprio dal titolo del nostro episodio è un po' come se fosse un copione di un film ok? tutti quanti noi in qualche maniera secondo l'analisi transazionale creiamo nel corso della nostra storia un nostro copione secondo Eric Bern il copione si basa proprio su decisioni prese per lo più quando eravamo bambini sulla base di quello che avveniva nei nostri primi anni di vita e che ci hanno in qualche maniera comunicato i nostri genitori ecco elaborazione dopo elaborazione abbiamo creato tutta una serie di costellazioni di convinzioni su noi stessi, sugli altri, sul mondo circostante su come bisogna stare all'interno di questo mondo che in qualche maniera poi però ci incanalano sempre allo stesso modo ci costringono a vivere sempre allo stesso modo le dinamiche della nostra vita di tutti i giorni e non sappiamo mai come uscirne allora cosa facciamo all'interno di questo episodio? intanto ci godiamo un estratto bello corposo dell'intervista che ho realizzato insieme a un ospite che gradisco veramente tanto sto parlando della collega psicologa, psicoterapeuta anche lei analista transazionale è la Giurlando con la quale io ho inaugurato possiamo dire così questo format intervista all'interno del podcast liberamente e insieme con Elena abbiamo fatto un viaggio nel mondo del copione di vita ecco, lo abbiamo detto il copione di vita, di questo parleremo oggi di quelle decisioni che abbiamo preso nel nostro passato e così come gli analisti transazionali amano dire ogni volta nella stanza di psicoterapia ecco, parlare di ridecisione ecco, all'interno di questo spazio di oggi ci diamo la possibilità e il potere di parlare di come possiamo ridecidere il corso della nostra storia andando a recuperare le decisioni prese nel nostro passato ma vabbè, non ti voglio spoilerare ancora di più di questo episodio intanto godiamocelo insieme io ti lascio nelle mani attente e soprattutto la voce meravigliosa di Elena Giurlando e ci vediamo e ci riascoltiamo al termine di questo episodio quindi goditi l'episodio di oggi dove parleremo di copione di vita che cos'è, che cos'è nell'analisi transazionale cosa significa e soprattutto come possiamo iniziare a riscriverlo Allora, io sono una psicologa, psicoterapeuta analista transazionale come te dello stesso approccio che viene definito dalla maggior parte dei pazienti vi dirò questa cosa, non so se a te torna che è un approccio gentile rispetto agli altri approcci non perché sia il migliore degli altri però a me piace tanto e tutti trovano la modalità di entrare in punta di piedi nella vita delle persone un modo gentile per affrontare parti dolorose di noi sono psicologa da, ormai ho perso il conto, degli anni prima lavoravo come psicoterapeuta a Roma e adesso mi sono trasferita invece in Sicilia infatti come potete vedere dalla mia tenuta prettamente estiva ma qui fa caldo, parecchio mi sono trasferita in Sicilia e continuo chiaramente ad esercitare la mia professione ma grazie ad internet anche online ed ecco perché ci troviamo sempre in queste modalità è vero e recentemente ci siamo anche trovati piacevolmente però anche dal vivo possiamo dirlo perché è talmente tanto bello questo approccio terapeutico appunto che è l'analisi transazionale che addirittura ci abbiamo creato un festival il festival dell'analisi transazionale che è questo evento che ormai da due anni permette di far incontrare l'analisi transazionale di cui parleremo oggi e le persone perché poi questa è la cosa più bella che accade anche nello studio di terapia ma sappiamo che può accadere anche in altre occasioni nel festival sicuramente ma anche speriamo questa mattina insieme con te allora Elena facciamo così proprio per cominciare a costruire insieme e disegnare insieme una cornice di riferimento aiutaci a capire che cos'è l'analisi transazionale ok allora l'analisi transazionale intanto è un approccio terapeutico che impronta il suo modo di vedere sulle relazioni tra le persone sulle transazioni proprio su quello che succede sui passaggi che esistono all'interno di una comunicazione relazionale diciamo che i fondamenti di base ma ne abbiamo già sentito parlare chi frequenta il tuo canale chiaramente ne ha sentito parlare in tutte le salse i passaggi più importanti sono le tre posizioni i tre stati dell'io il genitore e tutto il bambino che semplicemente non sono altro che un modo di essere nostro contemporaneo che ci portiamo dietro e ci costruiamo e adesso da qui entraremo nella descrizione del copione del modo delle norme sociali che apprendiamo da chi si prende cura di noi e quindi la parte genitoriale nel modo di sentire in maniera arcaica in maniera spontanea la parte del bambino tutto quello che viviamo nella vita e poi invece la parte adulta la parte dell'adulta è quello che mette insieme tutto questo nel qui ed ora nel presente e agisce questo è diciamo in soldoni quello che rappresenta l'analisi transazionale quindi l'analisi di quella l'osservazione di quelle relazioni di quelle transazioni che ci sono attraverso le persone tenendo presente con una parte consapevole ovviamente di noi stessi quali sono i passaggi tra dentro di noi tra genitore, adulto e bambino certo certo è vero che è proprio in grandi linee questa descrizione ma è sicuramente efficace perché gli stati dell'io partire dagli stati dell'io ci servirà anche per entrare nel tema del copione di vita che è quello che ci interessa particolarmente questa mattina e Elena proprio se dovessi spiegarlo non so a mia nonna ok o a un bambino di 10 anni che cos'è il copione di vita che cosa gli diresti quindi che cos'è il copione di vita nell'analisi transazionale allora il copione non è nient'altro che esiste una definizione ma ci arriviamo dopo proprio perché mi va di arrivare dritti alla chiarezza rispetto a chi ci ascolta noi nasciamo da piccolini e siamo circondati da tanti esempi circondati dal come si prendono cura di noi i nostri genitori gli amici i nonni i parenti i contesti relazionali nei quali siamo e tutto questo influisce sul nostro apprendimento in qualche modo quindi noi quando siamo piccoli impariamo ciò che è bene ciò che è male qual è la cosa che si può fare e qual è la cosa che non si può fare e impariamo a riconoscerci attraverso tutte queste influenze a un certo punto decidiamo ed è una decisione presa che prendiamo inconsapevolmente quando siamo già molto piccoli intorno ai 4-5 anni più o meno decidiamo chi saremo da grandi quali sono le cose che nella nostra mente di bambino sono quelle cose che funzionano bene quali sono quelle cose che ci fanno sperimentare una posizione un'emozione vitale buona e importante allora lì noi decidiamo come saremo da grandi in maniera inconsapevole ovviamente Bern dà appunto una definizione che dice che è una decisione ve la leggo così e precisa è un piano di vita che si basa su una decisione presa durante l'infanzia rinforzata dai genitori giustificata dagli eventi successivi e che culminano in una scelta finale la scelta finale Bern la chiama tornaconto vi do una cosa una chicca carina che è successa ieri con una paziente analizzando il tornaconto a un certo punto abbiamo scoperto quello che possiamo chiamare anche tornacontro adesso dopo vedremo vedremo perché tu sorridi chiaramente ma c'è un motivo e ci arriveremo molto carino molto interessante esatto cos'è questa questo piano di vita questo piano di vita è proprio quello che noi iniziamo a fare man mano che siamo bambini iniziamo il modo in cui iniziamo a rapportarci agli altri nelle relazioni a stare in mezzo agli altri decidiamo che che noi potremmo essere buoni con chi ci fa sperimentare che siamo buoni noi saremo ci sentiremo ok se l'altro ci darà un riconoscimento ok quindi attraverso il feedback dell'altro il riconoscimento dell'altro noi impareremo a sentire ad ascoltare quello che siamo il più delle volte succede però e qui entriamo un po' nel vivo del copione il più delle volte avviene che mettiamo insieme una sorta di di storia una sorta di di stralcio come se fosse un copione teatrale e lo seguiamo perché sappiamo che a quello più o meno dovrebbe corrispondere a più b più o meno dovrebbe dare c allora noi cerchiamo di seguirlo perché quello abbiamo appreso da piccolini cerchiamo di seguire quel comportamento e solo che il più delle volte non arriva c perché perché nella vita non tutti sono fatti esattamente come noi ognuno ha le proprie esperienze ognuno ha il proprio modo di essere cresciuto il proprio contesto che l'ha modificato nel tempo e quindi non tutti reagiscono o pensano esattamente come noi allora cosa succede che noi metteremo in atto quello che per noi è possiamo dire ovvio quello che per noi è scontato quello che per noi è giusto che sia perché ci aspettiamo che accadrà un dato evento perché la prevedibilità come come quando come quando si è bambini proprio le routine ti danno quel senso di prevedibilità e di sicurezza di certezza quindi tutto ciò che è prevedibile ti rende sicuro allora lo metteremo in atto sempre allora quella ripetizione diventerà il nostro copione il problema nasce quando alla fine di queste ripetizioni in realtà non abbiamo il risultato sperato e quello è quello che si chiama il tornaconto che la che ieri abbiamo ribattezzato tornacontro perché tornacontro infatti infatti Elena proprio su questo ti volevo chiedere che cos'è il tornaconto e perché lo lo chiami tornacontro ok ok il tornaconto quindi quello reale insomma della dell'analisi transazionale è il risultato della messa in atto del nostro copione ripetitivo quindi della coazione ripetere e quello che noi ci aspettiamo che succeda torna indietro riconfermando il fatto che non abbiamo trovato quella quella soluzione che speravamo ma succede sempre la stessa cosa quindi torna indietro in realtà il tornaconto ha un'accezione un po' negativa in questo senso quando c'è una non riuscita delle nostre attese e ecco perché torna contro e noi tentiamo a a ripetere lo stesso comportamento a rimettere in atto le stesse cose semplicemente perché ci aspettiamo che arrivi quel risultato che arrivi quella quella speranza attesa da sempre perché noi siamo legati a quell'idea che A più B è uguale C e quindi prima o poi arriverà C allora quello è il nostro tornaconto nel nostro ideale in realtà però non succede così quando noi rimaniamo agganciati e vincolati proprio a quelle a quei passaggi mentali che ci siamo fatti da piccoli e che ci manteniamo che si chiamano convinzioni convinzioni di copione per l'esattezza e ci riportiamo avanti per tutta la vita pensando di non avere altre vie di uscita perché torna contro perché l'abbiamo ribattezzato così perché il più delle volte quello che sperimentiamo è frustrazione la frustrazione di non avere risultato faccio un esempio per essere più chiari faccio l'esempio proprio del tornacontro vissuto ieri nella stanza di terapia questa persona ha voglia di essere vista dalla mamma la mamma si è fatta con tanti figli la mamma ha cercato di fare quello che ha potuto con i mezzi che aveva ha cercato di essere presente con tutti i figli ma con il suo modo di fare della mamma il suo modo di essere mamma non è riuscita a vedere tutti i figli nello stesso modo o comunque i figli non hanno percepito di essere visti tutti nello stesso modo ecco questo è più corretto da dire questa ragazza ha imparato che nella vita per essere visti e non l'ha imparato dentro casa l'ha imparato nelle evoluzioni della sua vita quindi nella crescita con le esperienze di vita vissuta ha imparato che nella vita per essere riconosciuti bisogna essere ecco questo è un messaggio che lei si porta nel copione bisogna essere sempre disponibili bisogna essere sempre pronti all'altro il tornaconto di copione il tornacontro la sua speranza è che gli altri la vedano in realtà quello che succede è che a un certo punto la speranza di essere vista invece non viene riconosciuta quindi nessuno si accorge quanto lei sia disponibile e quanto sia quanta energia ci metta nell'essere vicina agli altri pur di essere riconosciuta pur di sentirsi amata questo succede per esempio in questo caso con la mamma allora lei è estremamente disponibile e la madre per risposta invece non è mai d'accordo con quello che lei dice o fa e quindi il tornacontro è proprio quella frustrazione che prova questa ragazza nel dire ma io faccio tutto questo lo faccio da sempre il copione che si ripete lo faccio da sempre faccio di tutto per lei perché non mi vede perché non mi ama come sarebbe giusto che fosse e quindi le tornacontro come frustrazione ok di 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 completa completa ok volevo dire ok volevo dire quando poi si arriva a capire come funziona il copione e adesso lo vedremo magari un po' più nel dettaglio come funziona il copione come funziona il nostro modo di ripetere certi rituali perché ci rendono chiaramente più sicuri no ma ci fanno sperimentare queste piccole frustrazioni quando si arriva a comprendere come funzioniamo in realtà quello è il momento e qui faccio l'esploit che dovrebbe essere alla fine ma ci entriamo nel dettaglio arriviamo anche a poter scoprire che abbiamo delle scelte diverse nella vita che non abbiamo l'obbligo di rimanere ancorati a quello che abbiamo appreso e a quelle convinzioni che ci portiamo dietro magari quello che abbiamo appreso è giusto lo stesso magari va bene anche per noi ma va bene continuare a ripeterle quando poi sperimentiamo frustrazione o abbiamo un'alternativa o abbiamo un altro modo di poter essere noi stessi ed essere ok lo stesso ci abbiamo ci abbiamo parlato tanto dell'ok è l'ok anche al festival dell'analisi transazionale e lo continueremo a fare anche il prossimo anno quindi se vi interessano queste argomentazioni tenete d'occhio il sito www.festivalanalisiranzazionale.it cominciamo a fare un po' già di divulgazione già già a un anno di distanza però Elena è molto interessante perché tu sostanzialmente dici per poter riscrivere il nostro copione dobbiamo prima capire come funziona il copione all'altro ti volevo chiedere proprio questo visto che lo accennavi aiutaci a capire come funziona il copione e di che cosa dobbiamo diventare consapevoli per poi poterlo riscrivere ok il copione in sé ha delle funzioni importanti che sono vitali e sono quello di capire e quindi dare quel senso capire come funziona la nostra vita e dare quel senso di prevedibilità di sicurezza quello che dicevamo prima il come agire l'altra funzione è agire cioè quindi finalizza il comportamento al soddisfacimento dei bisogni che abbiamo quindi il bisogno di pensare delle cose il bisogno di struttura rispetto a certi contesti il bisogno di relazioni quindi finalizza la nostra azione e protegge dalle frustrazioni perché in una scelta differente io sperimento e non so come andrà quindi potrei sentirmi frustrata nel non sapere il risultato ritornando all'esempio di cui facevi prima della tua paziente dici ok preferisco restare dentro al copione che è preferibile e comunque che conosco piuttosto che provare a non soddisfare tutti i bisogni dell'altro e scoprire che cosa succede esattamente che spaventa molto e quindi si resta nel copione il copione quindi ha anche una funzione diciamo protettiva esattamente esattamente e poi in qualche modo economizza ti fa risparmiare quelle energie nel tentare soluzioni e rischiare di fallire la paura di fallimento è forte per ognuno e uscire dal copione è rischiare un po' paradossalmente ha proprio senso questa cosa perché dici sembra apparentemente restando su questo esempio che c'hai descritto prima sarebbe quasi più difficoltoso rendersi disponibile sempre comunque per tutti ma in realtà è molto più dispendioso provare a fare il contrario per la persona esattamente laddove c'è una 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 coazione a ripetere laddove c'è un'abitudine l'abitudine a fare sempre nello stesso modo perché perché io faccio sempre l'esempio dei bambini piccoli fare sempre le stesse cose ti aiuta a prendere confidenza con quello che fai e a un certo punto diventi esperto diventi esperto di quella data cosa diventi esperto di quel copione quindi uscire diventa faticoso diventa dispendioso ti devi mettere in gioco ed è proprio quello il punto il mettersi in gioco per scardinare qualcosa e non sapere cosa c'è dall'altro lato il copione porta in sé dei messaggi cerco di andare rapida perché sto guardando un po' un po' l'orario però sono i messaggi che porta e vado proprio stringata stringata sono quelle cose che impariamo dai da chi si prende cura di noi dal caregiver dai genitori dai dai contesti sono quelle cose che impariamo che vanno bene o vanno male le possiamo sintetizzare con le ingiunzioni le contro ingiunzioni che il tuo pubblico ha già chiaramente sentito e conosciuto in altre occasioni le ingiunzioni sono un po' quelle proibizioni o l'inibizione del comportamento libero di quelle cose che vorremmo poter fare ma sappiamo che non si fanno perché abbiamo imparato che non si fanno ebbe l'elenco tanto si trovano comunque ovunque su internet le elenco semplicemente per uno scopo perché a volte sentire le ingiunzioni uno riconosce qual è la propria e riconosce caspita questo fa parte di me le ingiunzioni le hanno un po' declinate i gulding che sono altri altri analisti allora erano analisti di transazione comunque studiosi dell'analisi transazionale sono non esistere non essere te stesso non essere bambino non crescere non riuscire non fare niente non essere importante non far parte non entrare in intimità non stare bene non pensare non sentire queste sono quelle proprio quelle quei divieti uno potrebbe dire per fare un piccolo breve esempio non ti fidare della gente che non conosci classica frase che si ripete ai bambini stai attento all'estraneo che ti dà la caramella uno impara che non si deve fidare delle persone che non conosce uno potrebbe memorizzare se io non conosco una persona fino in fondo non posso entrare in intimità non posso fidarmi dell'altro non posso permettermi non mi posso dare un permesso quindi non posso darmi quell'autorizzazione ad essere me stesso allora mi devo guardare mi devo proteggere un po' parte tutto dalle paure di chi si prende cura di noi dalle paure del bambino del genitore in questo caso e sono proprio quelle che tendono a proteggerci ma sono quelle che rinforzano i nostri divieti in qualche modo poi ci sono le spinte quindi le controingiunzioni che sono cinque importanti che sono si perfetto si forte io le leggo perdonatemi ma non me le ricordo mai tutte in ordine si perfetto si forte dacci dentro sbrigati e compiaci per esempio facciamo un altro esempio per farlo capire il compiacere è quando sto pensando a un esempio per i comportamenti bene quando arrivano ospiti in casa non so è bene che quando arrivi qualcuno in casa tu dia un bacetto seduti col bacetto adesso se un bambino non piace dare i baci se ne parla tanto con pedagogisi educatori dell'infanzia mai forzare i bambini a fare qualcosa che non gli va eppure una volta si faceva così è buona educazione fare questo è buona educazione non rispondere mai male se una persona ti dice una cosa che per te non va bene lui dice bravo sì è vero è così quello è un po' il senso del compiacere compiacere per essere visto dall'altro io sono ok perché la penso come te in realtà stiamo facendo una violenza al nostro modo di essere autentici al nostro modo di essere spontanei e non ci concediamo di entrare in intimità perché non ci appartiene quel modo di essere eppure portiamo avanti per esempio il compiaci la spinta del compiaci proprio perché è quel modo che abbiamo imparato a utilizzare per riconoscerci per sentirci riconosciuti scusate davanti agli altri e poi le posizioni esistenziali ecco questo è un altro elemento importante che fa parte del copione che le abbiamo viste in tante situazioni in tanti modi soprattutto al festival della analisi transazionale e le posizioni esistenziali fondamentalmente sono due io sono anzi sono quattro io sono ok o non sono ok e tu sei ok o non sei ok in base a come si combinano questi due modi di essere io e tu noi ci sentiamo ok in mezzo agli altri oppure no noi ci sentiamo ok come gli altri ed è la posizione di equilibrio noi ci sentiamo non ok e il mondo è brutto e cattivo e allora diventa una situazione devastante oppure noi ci sentiamo inferiore agli altri o superiore agli altri chiaramente c'è sempre un disequilibrio come vedete tutto questo scusa mi ti do la parola fa parte di quel modo di esprimerci di rapportarci davanti agli altri quindi il copione forma il nostro copione e se impariamo a riconoscere come ci stiamo ponendo con gli altri sotto quale spinta agiamo e sotto quale inibizione stiamo stiamo frenando delle cose possiamo sapere anche abbiamo la possibilità di scegliere che cosa modificare di noi sai Elena mentre li ascoltavo a parte vabbè sei riuscita a sintetizzare dei concetti enormi dell'analisi transazionale in maniera molto molto lineare pulita e anche molto chiara insomma magari spero che lo sia soprattutto per le persone che ci stanno ascoltando perché forse magari io ho la percezione già conoscendo questi argomenti di avere proprio questa chiarezza quindi fateci sapere se vi insomma vi sta piacendo questa chiacchierata perché stanno emergendo tante cose importanti io Elena pensavo una cosa tu volevo un attimo fare un passetto indietro rispetto a una cosa che tu hai detto all'inizio della nostra chiacchierata dicevi guardate che del copione non è tutto da buttare in qualche maniera c'è copione positivo copione negativo cosa c'è da tenere e cosa c'è invece da buttare del copione da riscrivere insomma andiamo un po' più nella direzione anche del comprendere cosa del copione possiamo tenere e ciò che invece del copione dobbiamo essere in grado di lasciare andare assolutamente per questo a me piace parlare tanto con gli esempi e stimolare un po' le persone che ci ascoltano per fare questo butto lì uno stimolo per chi ci ascolta e vi chiedo di pensare nella vita allora noi intanto abbiamo tanti ruoli noi siamo donne uomini madri padri lavoratori amanti quello che volete sportivi in ogni ruolo della vostra vita quindi ogni persona ha più ruoli chiaramente nella vita per esempio faccio l'esempio su di me io come donna per me nella vita l'importante è come te Matteo per te come uomo per te come terapeuta come podcaster per te l'importante nella vita è tutte queste risposte mi piacerebbe se lo facessero ognuno di loro a casa tutte queste risposte in qualche modo ci danno delle indicazioni su quello che per noi è importante su quello che per noi sono delle convinzioni fondanti che ci portiamo dietro e quello in qualche modo ci dà leggo i commenti sono carini wow tanta roba però è così ci danno grazie del feedback ci danno le indicazioni su come noi ci muoviamo nel mondo non è tutto da buttare appunto ci sono quelle cose positive per me l'importante è non so essere una brava mamma ok per me l'importante è essere chiara come poter parlare ai bambini per esempio questa è una cosa mia a me piace essere chiara e andare con gli esempi per poter farmi capire anche dai bambini io tendo a fare gli esempi con i cartoni animati quasi sempre oggi ve li risparmio quello ci dice qual è la cosa importante per noi per me la chiarezza per me la chiarezza la semplicità e quello ci dice quali sono i nostri valori qual è il nostro modo di agire e non tutto è da buttare ci sono delle cose che sono per noi sane e come si riconoscono là dove noi ci sentiamo spontanei autonomi e liberi di agire allora quello è il momento in cui noi siamo in sintonia con il copione positivo noi possiamo portare avanti quel modo di essere perché ci permette di essere autonomi di poterci gestire nella relazione con gli altri e col mondo e con noi stessi in maniera appunto mi ripeto spontanea libera e autonoma Elena mi piace molto il tuo approccio appunto pratico legato a degli esempi per cercare proprio di comprendere la complessità di alcuni concetti e vorrei dedicare l'ultimo spazio visto che poi ci trasferiamo anche nel privé però sulla questione della riscrittura del copione ti dico ti condivido un qualcosa che ormai riscontro da anni nella stanza di psicoterapia anzi ti faccio prima questa domanda facciamo così per riscrivere il copione è necessario andare in psicoterapia o si può fare anche da soli allora secondo me no nel senso secondo me sì è necessario andare in terapia ma ti dico perché non perché sto promuovendo la causa ma noi possiamo arrivare a un certo livello di consapevolezza in maniera autonoma no allora il copione si può riscrivere il primo passo e questo si può fare anche da soli è un po' riconoscere gli aspetti salienti no è un po' quello che ho elencato le ingiunzioni le controingiunzioni le posizioni esistenziali ti aiutano ci aiutano a posizionarci a trovare un'identità no la nostra identità noi funzioniamo così e già una prima autoosservazione è utile per potersi fermare a riflettere no ho sempre funzionato così che alternative ho ok però c'è qualcos'altro e quindi diciamo una prima parte si può fare in realtà in maniera autonoma poi c'è una seconda parte la seconda parte è quel è un po' il mantenimento del tornaconto no è un concetto più complesso che in 5 minuti chiaramente non si può approfondire così tanto però il tornaconto del copione a noi serve per far sì che noi ci continuiamo a riconoscere noi sto pensando a un esempio da farvi però io allora io mi riconosco se io continuo a essere per esempio sto pensando alla spinta sii forte ecco nelle situazioni difficili io ho imparato nella vita per esempio che non bisogna mai mollare bisogna essere sempre forti cadere rialzarsi andare avanti ok però ho imparato che non bisogna chiedere aiuto e io continuerò a sperimentare quel tornaconto quel tornaconto che non chiederò aiuto andrò avanti a un certo punto avrò bisogno di aiuto anch'io avrò bisogno di aiuto anch'io perché siamo esseri umani perché nessuno è perfetto per fortuna c'è anche il sì perfetto ovviamente e quel mantenimento del tornaconto di copione mi porterà a provare ecco magari così lo spiego meglio quella a sperimentare quella difficoltà che io mi porto dietro nel cercare un'alternativa nel poter chiedere aiuto ad esempio ma siccome ho imparato ad essere forte a non chiedere mai aiuto io starò lì a cercare di dimostrare a chi mi ha insegnato da chi ho appreso è più corretto da chi ho preso che non bisogna mai mollare non bisogna chiedere aiuto starò lì a dimostrare che prima o poi ce la farò ma quel prima o poi non arriverà e allora questo è un concetto che da soli non si può andare ad approfondire in maniera completa allora quella quella che noi chiamiamo la riparazione delle relazioni infantili no? di quello che abbiamo appreso nell'infanzia e che ci portiamo dietro come convinzioni quello diventa il nostro dono d'amore per chi si è preso cura di noi ma in realtà è qualcosa che ci viene contro no? il tornacontro appunto quello è meglio farlo con qualcuno accanto con un esperto accanto che ti indirizzi e ti guidi nella ridecisione del tuo copione il copione può andare sempre bene in altri in altri momenti ma devi essere tu a deciderlo devi essere devi essere certo che quello è sano per te che quello ti consente di essere libero di essere te stesso autentico e spontaneo nel rispetto di sé dell'altro eccoci qui ragazzi anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast liberamente dove abbiamo finalmente parlato di copione di vita il copione di vita che è centrale nell'analisi transazionale che è il mio approccio psicoterapeutico del quale sono totalmente innamorato a tal punto di aver creato anche un evento dal vivo il festival dell'analisi transazionale quest'anno in data 7-8 maggio mi sembra 2022 abbiamo dato vita alla seconda edizione di questo festival questa volta arricchendolo anche dell'esperienza dal vivo a Roma insomma siamo pronti stiamo già lavorando per l'edizione del 2023 quindi già comincio a raccontarti e a invitarti se vorrai veramente iniziare a capire come funziona la tua mente e soprattutto cercare di capire come puoi sbloccarti già ti invito alla terza edizione del festival dell'analisi transazionale a maggio 2023 ma ora parliamo di chi scrive ogni giorno ogni puntata ogni mese di questo podcast insieme con me sto parlando dei finanziatori se è la prima volta che passi da queste parti devi sapere che questo podcast non soltanto vive di una vita ulteriore all'interno del canale segreto privato su telegram delle menti libere al quale potrai accedere in maniera totalmente gratuita scrivendomi il messaggio a me sul mio contatto privato su telegram sono una mente libera ma poi è supportato e sorretto dai finanziatori dalla famiglia dei finanziatori chi sono queste persone questi pazzi sono persone ascoltatori come te che episodio dopo episodio hanno deciso di aiutarmi concretamente con il loro finanziamento economico di ogni mese a base mensile andando sulla pagina Patreon dedicata al podcast di questo scusatemi alla pagina Patreon di questo podcast appunto liberamente che le trovi tranquillamente nelle noti di ogni episodio quindi potrai anche tu diventare finanziatore quindi andiamoli subito a conoscere e a salutare ringrazio e saluto Chiara Favilli Brunella Gambino Alessandra Rossato Sales Elena Al Tratto Donatella Taverna Angelo Cetera Stefano Arlati Maristella Occhio Nero Erika Davide Forgione Paolo Gagge Carmen Guerino Danilo Cozzolino Andrea Guido Ciro Zinno Francesca Ferrari Elisa Scarantino Francesca Porcelli Anna Rita Corsi Paolo Domenico Luca Fabracci Salvatore Latina Maria Ecates Lorenza D'Andrea Rosa Maria Muratori Antonella Guerra Fabiola Scascitelli Simona Flower Michele Russo Fabrizio Imola Bicchetto Alessandra Pierluigi Vittoria Borgia Luiz Antonio Gagliardi Prado Giovanna Verde Maria Rosa Claudia Moncado Zendo Greisner Natascia Zanola Taurino Leonardo Alessandro Raso Lucilla Alberto Pala Marco Mercuri Rosanna Golfetto Michele Musano Alfonso Noschese E poi ancora Fatemi cambiare pagina Su Patreon Perché siete veramente tanti Ed è bella questa cosa Vediamo quanto ci mette a caricare Perché sto per arrivare al termine della sigla Ma va bene Ce la faremo Dicevo Silvia Spinelli Barbara Bechelloni Gugliel Marco Ledi Simone Letizia Bibbi Fortuna Marrone Giovanna Ricò Francesca Marocco Daniele Michetti Croce di Michele Mattia Paul Andrea Molinari Robert Sara Veltri Veronica Cardulo Savino Serra Alessandro Fabrizio Carmelo Conti Francesco Maggioni Alessia Ceccoli Mamma mia Ce l'ho fatta ragazzi Siamo andati in ricorsa Ma io ringrazio ognuno di loro Se anche tu sei un amante di questo podcast E sei grato per quello che ricevi all'interno di questi episodi Vai nelle note di ogni episodio E diventa anche tu finanziatore del podcast liberamente Ovviamente ti ringrazio per essere arrivato fino a qui E ti do appuntamento al prossimo episodio Con me su Liberamente Non essere il migliore Sii unico Credi in te Impara ad amarti E datti il potere di cambiare Accetta il tuo passato Vivi il tuo presente E costruisci il tuo futuro Potenzia la tua libertà Potenzia la tua libertà E sprigiona tutta la tua energia Tutta la tua energia Perché la tua vita migliora Perché la tua vita migliora Quando sei tu a migliorare Quando sei tu a migliorare Questo è Liberamente Il podcast di psicologia e crescita personale Per liberare la tua mente Per liberare la tua mente Per liberare la tua mente Ogni giorno A cura di Matteo Neroni Per liberare la tua vita migliora Per liberare la tua vita migliora Per liberare la tua mente